A nome mio, a nome del Consiglio, a nome di tutta l'Associazione, vi volevo salutare e quale modo migliore per farlo se non in zainese? A lingua che dai mill'anni parliamo chi? E a lui! Allora, ringrazio la Federazione, il Presidente e tutti voi altri per essere venuti a Sena. Spero che, se ben il tempo e l'epoca, puoi portare a casa un'immagine di Sena bella, vitale e in un posto dove si sta bene. Allora, vado a concludere, augurando a tutti quanti un buon travaggio e grazie a tutti, signoria! Grazie!